Questo è un messaggio automatico del servizio di emergenza del Commonwealth del Massachusetts. Questa mattina, sabato 23 ottobre, le unità hanno rilevato il lancio di un attacco nucleare contro gli Stati Uniti. Fra le città colpite rientrano Washington DC, New York, Philadelphia e Boston. Se ricevete questo messaggio di emergenza, cercate immediatamente un rifugio in grado di offrire protezione dalla ricaduta radioattiva. Questa è stata una trasmissione informativa di emergenza.